Con una grande prova di squadra, una difesa eccellente, così come la prestazione del migliore in campo Stefan Markovic, autore di 9 punti e 12 assist, la Virtus coglie un'impresa storica sul campo di Venezia. La Virtus non vinceva dal 1993 ed è una vittoria che ha anche un grande peso specifico sulla classifica perché con questo successo i bianconeri vanno a più 4 su Sassari, sconfitta in casa da Trento a sorpresa. La Virtus ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, è nata anche a più 13 nel terzo quarto e non si è fatta più prendere da una Venezia che ha avuto in Bramos il suo migliore interprete inizialmente, ma poi la difesa della Virtus ha saputo spegnere anche lui. Grande prova di Markovic si diceva, Teodosic nonostante l'1 su 11 da 3 punti è riuscito con 8 punti nel ultimo quarto e anche 7 assist a mettere la sua firma sul successo, così come molto bene sono andati i due lunghi Hunter e Gamble, 30 punti in due. Hanno giocato spesso insieme per i problemi di falli di Ricci e anche difensivamente hanno dato un contributo davvero importante alla squadra di Sade Djordjevic, ma bene anche la panchina con Baldirossi e Paiola tra i migliori che sono riusciti non solo ad allungare le rotazioni ma anche ad essere protagonisti. Davvero una Virtus che conferma una volta di più le sue ambizioni venendo a vincere su questo campo dove appunto non riusciva a farlo da 27 anni.